Bisogna sicuramente vincere fino in fondo e guardare noi stessi, poi gli altri purtroppo continuano a vincere, intanto noi pensiamo a vincere le prossime, abbiamo l'obbligo di farlo fino alla fine, poi vedremo quello che succederà. Domenica andiamo in casa del Trasteveri a fare i punti con noi, è una squadra organizzatissima, però se vogliamo cercare di continuare, come abbiamo l'obbligo di fare questa ricorsa, vogliamo cercare di fare anche lì risultato, magari con un po' di accortezza in più, facendo una partita magari un po' più accorta all'inizio, poi vedremo, la prepareremo comunque bene in settimana, sappiamo che il Trasteveri è una squadra forte, organizzata, e niente, però ripeto, noi non dobbiamo fare calcoli, non possiamo permetterci di fare calcoli. Noi abbiamo qualche partita che ci giochiamo tutto, che siamo costretti a rincorrere, lo facciamo, è uno stimolo, comunque è una pressione in più, però secondo me se giochi a Ravellino è questo, hai l'obbligo di provarci, stiamo rincorrendo, ci giochiamo una grossa fetta sicuramente di campionato e anche di continuare se facciamo risultato pieno questa rincorsa sulla Nusea.